Siamo qui per dare le nostre lezioni di compro, scienza, e scuolenti. Se è più che scuolenti in Italia del genere, inutile presuncare, per i quali ho scritto, e io ho detto che non è scuolta. Ci sentiamo qua così viventi per scuolgere la sua scuola. Noi rubiamo ai ritori per dare ai posti, e poi li rubiamo ai poveri per dare ai ritori. E il pratico che mi ha venuto di poi, c'è da Mattia Vasta, e poi ci appare, Muccio Divino. E quindi uno degli ambienti che influenzano più i miei brani è l'infanzia, e a voi tutti la ragione che parla di infanzia e di incontri spiacenti, Paolino e suo genitore. E quindi uno degli ambienti che parla di infanzia e di incontri spiacenti e di incontri spiacenti e di incontri spiacenti e di incontri spiacenti. E a voi tutti i ambienti che parla di infanzia e di incontri spiacenti e di incontri spiacenti e di incontri spiacenti, e di un altra offra, e giocato qui spiacenti i primi ambienti. E' un po' di più, la sua persona è un po' di più Se ci fai già a casa, la sua pure Come si dormita la mia pareggio Certo, non mi aspettavo Certo, non mi rendavo Grazie a tutti. 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 Tant' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, e io... Grazie a tutti. Muoiamoci... Yeah, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. Grazie. Passiamo, e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti.